Buongiorno ragazze, ciao! Eccomi tornata finalmente in un nuovo video, sto registrando come vedete alle mie spalle nel mio studio e oggi ho deciso di sistemarlo perché ultimamente in queste settimane sto portando ancora da casa dei miei le cose qui e quindi in attesa di sistemare, di avere del tempo per sistemarle, le mettevo tutte qui nello studio e è parecchio, parecchio disordinato dopo vi faccio vedere in che condizioni si trova, sono già truccata perché dopo vado a lavorare però ovviamente sono super comoda perché ho questo felpone che ho preso da Tizenis recentemente, bello morbido, tiene un sacco di caldo quindi per stare in casa tengo questo anche perché dovrò fare oltre a sistemare anche delle pulizie, salute e gioia, delle pulizie generali appunto qui nello studio quindi direi subito di iniziare, vi faccio vedere qual è la situazione attuale, il caos che rigna all'interno di questo studio qui ad esempio come potete notare ci sono un po' di cose messe così a casaccio alla rinfusa, non hanno un senso logico quindi dopo andiamo a sistemarle per bene, c'è ancora questa scritta che direi che è arrivato il momento decisamente di cambiarla poi qui ho un po' di scatole giusto appoggiate così a caso ho portato la cassettiera dove ci sono tutti i trucchi, oggi sicuramente non andrò a sistemare l'interno dei trucchi non ho ancora avuto tempo di selezionare per bene le cose qui mi sembra abbastanza ordinato quindi questo magari lo lascio così, sposto questo quadretto che non ci sta assolutamente bene lì poi ovviamente essendo lo studio lascio sempre qua tutti i ring light, il softbox che ovviamente mi servono sempre c'è il cavalletto che è sempre posizionato in mezzo alla stanza e ecco qua il casino che regna sulla, su quest'altra cassettiera ci sono un po' di cose quindi poi vado a sistemarla anche all'interno dei cassetti sono un po' disordinati quindi volevo sistemare e questo è tutto il resto, tutto il casino che sta regnando vedete là c'è anche gioia, insomma mi sono arrivate un po' di cose, alcune cose voglio sistemarle ho preso queste piantine d'Ekia che ancora non ho avuto tempo di posizionarle poi c'è questa scaletta che è messa così ma vedete cioè è un po' un casino cioè non è per niente sistemata decentemente, borsine a terra, cose a terra questa è la scrivania dove appunto c'è il computer, la mia postazione editing dove sostanzialmente sto quando devo editare i video o guardare direttamente i video su youtube e ho finito di truccarmi quindi avevo lo specchio qui nonostante ho la postazione però vedete che c'è caos e quindi mi sono truccata da questo lato voglio sistemare per bene anche questa, darle una bella pulita al computer come vedete l'ho portato qui, questa parete è ancora completamente spoglia perché non voglio mettere ancora non ho avuto tempo di scegliere le cose, comunque voglio mettere dei poster magari qualche mensolina piccolina o qualche polaroid o qualche nostra foto e niente questa è la situazione quindi adesso iniziamo a sistemare tutto questo casino che dici gioia? è arrivato il momento di sistemare direi proprio di sì vero che c'è un casino qui, iniziamo direi di partire dalla postazione video, quindi dalla scrivania perché non ci sono tantissime cose devo giusto andare a organizzare due o tre cosine a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.